Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo il test del King Bowlen Ediag. Lo facciamo sulla mia Dacia Sandero perché proprio in questo periodo qui è tempo di tagliando e ovviamente si è accesa la spia del tagliando, quella lì, della chiave inglese, che una volta che si accende la macchina non si spegne, quindi è ora di fare il tagliando perché è passato un anno dall'ultimo tagliando fatto. Lo proveremo a fare tramite il nostro King Bowlen Ediag. Questo è una sorta di computerino che si attacca alla presa OBD2 che si trova esattamente qua sotto, la vedete bene, si attacca direttamente lì e tramite l'applicazione Ediag che trovate sul Play Store qualsiasi, sia per iOS che per Android, si riesce a gestire tutto quello che sa gestire quando si deve fare la formatazione di spie, oppure quando in alcune automobili, ad esempio quando si fa il tagliando, si cambia l'olio eccetera, l'auto non parte se prima non facciamo il reset della centralina, del cambio dell'olio eccetera eccetera. Con questo strumento pare proprio che riusciamo a fare tutte queste cose. Lo scartiamo brutalmente. All'interno troviamo vari libretti, ma c'è poco da leggere perché facciamo tutto tramite l'applicazione. La presa è così, plastica sembra buona, è bello compatto, ha un discreto peso. Vediamo come funziona. Eccola ce l'ho fatta, appena inserita si accende e diventa verde. Adesso vogliamo di collegare la nostra presa al telefono. Questa è la schermata che ci troviamo subito appena aperto il telefono e vediamo se riusciamo a collegare la nostra presa bluetooth. Facciamo consentire, consenti, consenti, chiede un'email, password. Benissimo, adesso ci dovremmo essere. Attivazione. Attiviamo il bluetooth. Il bluetooth stava in alto a destra. Vediamo di attivarlo. Codice di attivazione che si trova in uno di questi manuali qui, attaccato con una peccetta. Quindi adesso lo andiamo a inserire. Una volta collegato all'automobile possiamo fare diverse cose, tra cui avere uno storico delle varie diagnosi che abbiamo fatto e avere, ad esempio, qui abbiamo la possibilità di decidere tre opzioni. Quindi tutti i sistemi full function vuol dire che noi inserendo il nostro VIN ci darà la possibilità di dare un'occhiata a un po' di parametri. Dipende tutto dalla vostra automobile, dalla versione, perché alcune versioni non sono supportate. Su Dacia Sandero non ci sono molte possibilità. Ho dato un'occhiata un po' a tutte le funzioni che hanno e molte cose non ci sono. Vedete, c'è l'azzeramento di intervalli di manutenzione manuale. Andiamo a prendere Sandero. E ci dice, errore di comunicazione ecu-veicolo. Accertarci, prego, che il sistema sia tutto a posto, eccetera, eccetera. Quando fate queste operazioni, va tenuto la chiama praticamente girata. Nel nostro caso abbiamo il pulsante, ma basta semplicemente premerlo come in questo caso. Adesso è su marcia. Vuol dire che la macchina non è accesa, ma il quadro è pronto. E comunque vada, non mi fa entrare, perché si vede che questo modello non è supportato. Ci sono altre auto Dacia. Possiamo fare anche una selezione manuale in cui possiamo andare a vedere diverse funzioni. Iniezione, ABS, trasmissione, unità centrale, servo sterzo, airbag, tracciamento, radio, iniezione e gas. Andiamo a selezionare un altro menu, così vi faccio vedere un po' tutto come funziona. Dal menu funzioni di manutenzione noi abbiamo praticamente tutto il quadro di possibilità di pie che si accendono e che possiamo andare a spegnere e a vedere se hanno dei problemi. Reset batteria, reset del cambio, reset dei freni. Devo fare manutenzione. E c'è quella spia lì accesa, ma da qua purtroppo non riesco a spegnerlo. Ho provato in tutti i modi, con reset olio. Non c'è proprio la spia manutenzione qui. Quella non me la fa spegnere in questo caso qua. Funzione OBD2, vediamo subito. Vedete che ogni volta che io apro un menu lui cerca di collegarsi. E qui inizierà a fare una scansione. Purtroppo che qui non riesce a fare una scansione che va a finire da qualche parte perché probabilmente la mia auto non è semplicemente all'interno di questi protocolli. Quindi non possiamo fare nient'altro. Possiamo fare una scansione degli errori. Quello lo possiamo fare. Se abbiamo degli errori da computerino lì possiamo andare a sistemare, fare qualcosina di più. Sicuramente ci sono dei software da scaricare anche a pagamento. Renault, Samsung, no, li ho provati tutti. Quindi in questo caso su Dacia non è che abbiamo tante funzioni. Però sicuramente su Fiat le auto un pochino più blasonate. Sicuramente le funzioni che ha a disposizione che vi ho fatto vedere prima che sono queste, ce ne sono tante e sicuramente sono anche comode se riusciamo ovviamente a sfruttarle. Quindi magari sinceratevi prima che sia supportata la vostra automobile a pieno. Ragazzi spero che il video sia stato utile. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento, un like. Se volete questa presa OBD2, questo computerino, ve lo lascio in descrizione il link. Iscrivetevi al canale, seguitemi anche sui social TikTok, Facebook e Instagram. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!